Buongiorno a tutti, bentornati, bentornati dalle vacanze, come vedete oggi è una giornata diciamo non proprio di sole, stiamo entrando un po' verso la fine dell'estate, ho voluto accogliervi qui in questo meraviglioso posto, sempre sul lago, siamo sul lago di Avigliana, siamo tra l'altro ospiti del circolo nautico di Avigliana, è un posto meraviglioso, io sono socia da poco, sono contentissima perché uno dei titolari mi ha detto questo è un posto magico e effettivamente è proprio così. Vi ho voluto portare qui oggi perché visto che quando si rinizia si torna dalle vacanze e si è un pochino abbacchiati perché si deve ricominciare il tran tran quotidiano, il lavoro, poi tra un po' arriva il freddo, insomma ci sono queste cose, volevo stimolarvi sul fatto che comunque noi abbiamo a disposizione sempre la natura, quindi al di là del fatto che poi possiate essere vicini o no a lago, in mare, montagna, boschi, comunque vi stimolo, con questo video voglio stimolarvi proprio a continuare perché d'estate si sta bene, sì, è vero, si sta molto meglio, ma forse non ci rendiamo conto che stiamo anche molto meglio non solo perché non lavoriamo o perché siamo al mare o c'è il sole, ma proprio perché la natura fa veramente opera su di noi e ha un effetto benefico sul nostro organismo, sul nostro sistema immunitario, sul nostro umore. Quindi questo vuole essere un po' uno stimolo, così un video un po' particolare, adesso poi partirò di nuovo con i chakra, i meridiani, i punti da schiacciare, eccetera, però questo video qua invece vuol proprio essere uno sprone per voi per guardarvi intorno e vedere che tipo di natura avete intorno a voi e starci un po' di tempo al giorno. È vero che le nostre giornate sono frenetiche, ci sono un sacco di cose da fare, ognuno di noi per i suoi buoni motivi ha un sacco di cose da fare, ma fare passare un pochino di tempo con la natura, dentro la natura il massimo possibile, fare sport nella natura è una risorsa incredibile, quindi fare sport può essere, uno dice vabbè ma io non ce la faccio, non ho il fisico, non riesco, sono acciaccato, non importa perché anche solo fare una piccola passeggiata o lungo lago o lungo un bosco, se avete la fortuna di abitare vicino al mare meraviglioso, montagna ancora di più, anzi non ancora, anche la montagna perché io il mare veramente lo adoro, ma al di là di questo fatevi un piccolo sforzo, state in mezzo alla natura e sentite quanto lavora dentro di voi perché vedrete che poco alla volta facendolo tutti i giorni diventerà come una sorta di medicina per voi al quale non riuscirete a rinunciare come me che sono sempre qua. Vi saluto, so che oggi non vi dico niente di particolare ma invece provate perché è una risorsa al pari dei meridiani, al pari di qualsiasi punto da schiacciare. Vi saluto ancora e vi auguro una buonissima giornata e come sempre grazie a voi.